Ragazzi, oggi doveva uscire in realtà un altro video, ovvero un video in cui vi avrei consigliato 6 giochi per PS4 da giocare mentre aspettate di poter prendere la 5 oppure per chi non ha avuto la 4, quando avrà la 5, 6 giochi da recuperare con la retrocompatibilità. Però non mi piaceva assolutamente, era un video quasi inutile, penso che poi magari lo rifarò più avanti, ma non è quello che voglio fare. Voglio parlarvi invece di una cosa ben più interessante secondo me, ovvero i motivi per cui attualmente vorrei e non vedo l'ora di prendere PS5, ma non ho fretta di prenderla. I motivi sono molto semplici e magari potreste anche rispecchiarvi in questi motivi e pensarla come me, non lo so. Motivo numero 1 Al lancio mi interessa un gioco, principalmente, e me ne interessicchia abbastanza un altro. Il gioco che mi interessa di più è ovviamente Demon's Souls. Il gioco che mi interessa, ma relativamente, è Spider-Man Miles Morales. Uno mi interessa relativamente Spider-Man, quindi non ho assolutamente fretta di giocarlo, posso prenderlo anche tra un anno, volendo. Non è una cosa che voglio giocare al volo, che proprio mi interessa così tanto. L'altro è un remake. E io ho già giocato Demon's Souls, anche se aspetto, non è assolutamente un problema, perché non è un gioco nuovo completamente. È un remake. Un altro motivo per cui non ho fretta è che ho tanti giochi arretrati da giocare su PlayStation 4, per esempio, ma anche su altre console. E penso che anche voi li abbiate. Scommetto che ciascuno di voi ha un tot di giochi arretrati che non ha finito. Mentre aspettate, giocate quelli. Io sto giocando un sacco di giochi PlayStation 4, tutti, sto giocando tutti i giochi PlayStation 4 che non avevo mai finito in questo periodo. E in mezzo ci ho trovato perle, quali God of War, Life is Strange, Ni No Kuni 2, per esempio. Ce ne sono tanti altri, perché ne ho giocati tanti. Ci sono anche alcuni che non mi sono piaciuti tanto, tipo Final Fantasy XII, ho fatto un video apposta. Ma ci sono anche tanti altri che invece, meno male che li ho recuperati. Quindi, se c'è qualche gioco che avete lasciato indietro, recuperate intanto quelli. Poi, pensate a PlayStation 5. Con calma, fate come volete. Ovviamente, se potete avere PlayStation 5, meglio. Io, a me piacerebbe. Anche perché potrei giocarci ai giochi PS4 con PlayStation 5. Quelli che sto giocando ora, che sto recuperando. Quindi, ragazzi, per chi non può ancora prendere PlayStation 5. Io parlo di PlayStation 5 perché io ho avuto la PlayStation 4. Non ho nulla contro l'Xbox. Semplicemente, non ho mai avuto l'occasione di avere un Xbox. Quindi, mi riferisco alla PlayStation perché la conosco. Però, penso che più... Comunque, il discorso vale anche per Series X. Non è un discorso che vale solo per PlayStation 5. Se avete giochi da recuperare, recuperateli. Se ovviamente non potete già avere la PlayStation 5, nel caso, prima godetevi la PlayStation 5. Poi, comunque, vi consiglio di recuperare i giochi che avete lasciato indietro. Magari, se sapete già che non vi piacciono, lasciateli lì. Quindi, se sono giochi che non avete finito per altri motivi, provate. Perché io ho scoperto tante perle. E, insomma, se anche voi avete già giocato Demon Souls, per esempio, oppure non vi interessa neanche quello, magari, per ora c'è Astro's Playroom. Se non vi interessa niente, praticamente, c'è solo Astro's Playroom, che sembra un platform molto carino, che sfrutta bene il controller, ma finisce lì. Non sto dicendo, ah, non prendete la PlayStation 5, perché, come quelli che dicono, a lancio non prendete la PlayStation 5, assolutamente, che schifezza. Assolutamente no. Io, se potessi, l'avrei già presa. Vi sto soltanto dando un motivo per... non essere tristi di non poterla ancora prendere. E nulla, direi che non ho nient'altro da dire. Buon divertimento con i giochi che recupererete, se li recupererete, o con le nuove console, se le avete già.